Bella a tutti ragazzi, bentornati su Minecraft. Adesso non siamo più su Ultimate Skyblock, non siamo in Hardcore 1, ma ragazzi siamo su Hardcore 2, perché non l'ho più continuato dall'altra volta, dallo scorsa volta, l'avvertenza che non so quanto era, ma vabbè, ragazzi aspettate. Ok, sono ritornato, che dovevo chiudere la porta di uno stanzetta, di dove faccio il video, perché ragazzi io mi sposto sempre per fare i video, mi sposto sempre da una parte io. Vabbè, siamo qui, wow, guarda, non l'avevo proprio notato, alcuni dicono, alcuni dicono da Espy, dove ne prendi le mappe? E ragazzi, allora, per iniziare, tipo, a You Don't Jump, cioè non puoi saltare, e la prendono da, da, come si chiama, a Mitch Peemaster. Pure io sto usando questa mappa, scaricata da Mitch Peemasters, che si chiama Hand Lens, che è una mappa dove tu stai sopravvivendo su una mano gigante, e devi cercare di sopravvivere, per almeno 100.000 giorni, eccetera, eccetera, eccetera. Vabbè, ragazzi, non sono proprio così tanti 100.000 giorni. Vabbè, saranno tipo 100.000 giorni, ma... Dai, ragazzi, non dite che sono poi così tanti, dite ad esempio... Razzolo, mio Dio, quanti video! Allora, io devo fare una specie di buco, buco, per fare il nostro coso... No, devo giocare ancora con, giocare ancora con, giocare ancora con... Allora, scusa, ragazzi, stavo giocando Fortnite, il mio cugino, che si chiama Marchetto. Marchetto, presentati! Dici ciao! Non è proprio in vena di fare i video, lui? Perché lui lì fa i video, ma è più bravo di me. Cioè, non ho capito il perché, ma è più bravo di me. Io piango! Basta, ho deciso, piango! Pianco perché sono triste. Ragazzi, non si vede una palla, ma vabbè. Questa è una palla, si vede. Ma quale palla? Una palla, si vede. Allora, io devo andare, io devo andare sopra. Perché è arrivata notte e sono morto. Perché se siamo in hard, sono morto! Scusate, ragazzi, dove sto facendo una piccola casetta. Che è così carina! È per sopravvivere, raga! E come la faccio la casetta? Di terra e di legno. Che c'è, ragazzi? È molto moderna la terra. Cioè, immaginate, un ragazzo era povero in Minecraft, ovviamente, e solamente due giorni ha trovato i diamanti e i smeraldi. E' esploso un creeper e io ho perso l'anno. Aiuto! La pecora mi ha fatto paura, ragazzi. Mi ha fatto prendere un colpo, una pecora. Ah! Zombie della Madonna! Zombie della Madonna! Non te lo permetterò! Ecco! Bella la mia casa! Bella! Bella! Bellissima! Sì, lo so, ragazzi, è uno schifo vivente, ma... Non fateci caso. Vi invito assolutamente a guardare il canale di Marchetto, che si chiama Marco Cento. Scherzato, non si chiama Marco Cento. Come ti chiami Marco? E' il tono, non ho più. Ok, ecco, vabbè. Bimbi, dovete per forza guardarlo, perché lui fa dei video fichissimi, mette pure la musica di sottofondo, è troppo bravo? Fa anche delle live. Ragazzi, spiegatemi come si fanno le live qua sopra, perché i miei video possono durare solamente 15 minuti. E se voglio vedere quanti minuti mi mancano per la fine del video, ci sono qua. 44 minuti rimanenti, ok. Ci rifaremo abbassare. Oppure, ragazzi, ci concludiamo qui. Ragazzi, scusate, ma devo concludere qui, ragazzi, perché l'episodio non dura all'infinito. Allora, per questo episodio del Niente Craft, ci salutiamo qui.